Secondo me le grandi squadre così possono essere in difficoltà una partita come è potuto accadere ieri sera con Rubin Kazan perché penso che Rubin è anche una buona squadra però già dal campionato loro sanno di avere uno strapotere sia fisico che tecnico e hanno molta più convinzione. Tutto è possibile nel calcio però dovremmo fare una gara perfetta perché loro sono un'ottima squadra come ho già detto sia sul piano tecnico che sul piano fisico hanno dominato in questi anni in Italia per cui ci vuole un Udinese perfetta per fare il risultato a Milano, un risultato positivo naturalmente. Le capacità ci sono indubbiamente però giochi anche con la squadra campione con una squadra che ha tantissimi giocatori molto forti per cui ho detto l'Udinese in questo momento è in buona condizione però ci vuole una partita senza sbavature per portare via un pareggio o una vittoria da Milano ci vuole una squadra che sbagli niente. Ho puntato centralmente, è riuscito a saltarlo Domingues ma non c'era neanche la copertura di Terzini forse era, non mi ricordo l'azione ma forse un ribaltamento di fronte, è sul ribaltamento di fronte perché mancava anche i Terzini che non hanno fatto tempo a chiudere per cui è stato bravo va anche dato merito a Domingues. L'uno contro uno a campo aperto non è mai facile tenere un attaccante bravo come Domingues e come ce ne sono tanti in Italia per cui è vero pure che è il primo sbaglio che fa mi sembra perché ha sempre fatto partite ottime sia lui che Samu. Sono tutte importanti le partite sia l'Inter che il Genova che il Parma e che tutte le altre però penso che stiamo in uno stato di forma importante veniamo da tre vittorie a un pareggio per cui anche il morale è molto alto come ho detto però per andare a vincere a Milano o comunque fare un risultato positivo ci vuole una squadra perfetta in tutti i dettagli. Più a livello mentale siamo al 100%, a livello fisico non siamo ancora al top proprio della forma però stiamo crescendo e poi le vittorie ti aiutano anche in quello anche al morale e man mano metti i minuti nelle gambe che ti servono per arrivare al 100% della forma. C'è il tuo gioco a sinistra perché il mister mi ha chiesto di giocare a sinistra io sono a disposizione del mister e gioco a sinistra anche perché ci ho già giocato qualche volta col Cagliari per cui destra o sinistra io penso che un giocatore quando si deve adattare per dare il 100% per aiutare la squadra si adatta in qualunque ruolo cioè se mi venisse chiesto di fare il terzino faccio il terzino non è quello il discorso. La caratteristica mia è molto spesso un esterno che ha giocato attaccante quando il terzino va magari prosegue la corsa anche lui per andare ad attaccare io molto spesso domenica Lukovic è salito palla al piede e mi sono fermato per dare copertura. A volte si va anche 4 contro 4 avendo due esterni alti però l'importante è che non si dimentichi che questo è un 4-4-2 e non un 4-2-4 Sì, siamo quattro punte tra cui due esterni se ci vuoi mettere Totò che ha giocato sempre esterno per cui penso che siamo un 4-4-2 un po' sbilanciato però che bisogna metterci in testa che se vogliamo giocare con due giocatori offensivi sugli esterni dobbiamo rientrare da una mano al centrocampo perché in due al centrocampo si fa fatica Il morale che abbiamo noi al 100% è importantissimo però loro hanno talmente tanta esperienza internazionale tutti i giocatori che hanno giocato la Champions, giocano la Champions da anni hanno vinto le Champions per cui sono giocatori che ogni partita è storia a sé magari sabato entrano in campo e non penso che hanno tanto nervosismo addosso sono abituati anche a queste situazioni Il mister sa quello che dice poi non sta a me giudicare io lo stimo molto come allenatore e mi piace anche come mediatore perché è molto simpatico vedi con queste squadre l'esempio è l'anno scorso a San Siro hai fatto un'ottima gara poi al 92esimo una piccola distrazione la paghi perché ci hanno giocatori che appena sbagli ti castigano a livello fisico sono corazzata il giocatore più basso mi sa che è un metro e novanta hanno uno strapotere fisico che nel calcio conta molto nel calcio fisico di oggi e poi hanno giocatori di grandissima qualità che a qualunque momento ti cambiano la partita cioè lì davanti possono anche fare una partita non eccelsa però poi dopo hanno il colpo di Etò, di Milito, di Stankovic c'è dei vari giocatori che ti cambiano la partita rispetto tutte le opinioni sicuramente il mister ha quest'idea e fa piacere però torniamo alla realtà torniamo alla realtà e pensiamo che l'udinese è una buona squadra è partita così e così si è ripresa alla grande adesso deve continuare a far bene pensando partita dopo partita io già so carico abbastanza di mio di solito poi il gol mi sono un pochino sbloccato ho avuto qualche occasione l'ho sbagliata qualche occasione è stato bravo il portiere per cui un'iniezione fiducia importante ma ti dico non è il gol che mi angosciava più di tanto tanto superare i record di punti che abbiamo fatto l'anno scorso con l'udinese perché fortunatamente non gioco a tennis gioco a calcio per cui si gioca di squadra e poi per quanto mi riguarda è normale uno punta sempre a migliorare è vero che non sono bomber però magari gira un pochino la fortuna pure a me a parte gli scherzi sì c'è stata un po' di sfortuna un po' di imprecisione però penso tutto quello che quando una cosa va bene l'importante è che va bene per la squadra i singoli vengono fuori quando la squadra va bene questo penso sia la cosa più positiva per tutti penso che sia l'arbitraggio poi a fare la differenza almeno lo spero poi per quanto riguarda l'arbitro può sbagliare è successo che ha sbagliato a favore nostro contro di noi per cui magari lasciamoli un po' più in pace poi sono magari il primo che in campo reclama perché magari quando sta in campo c'è un po' di foca agonistica però capisco anche che non è facile decidere in una frazione di secondo e non è facile magari valutare un fuorigioco di 5 mm è impossibile sia noi che la Samp siamo due ottime squadre due ottime squadre con due buonissime società dietro perché io penso che nulla viene da sé per cui potremmo arrivare a un risultato positivo se continuiamo a lavorare come stiamo lavorando sia noi che loro siamo due buone squadre che possono infastidire per una minima parte diciamo le big però come ho detto bisogna continuare a guardare partita dopo partita perché appena guardiamo un po' più avanti noi cadiamo la grande squadra è l'Inter il Milan è la Juve noi ancora non siamo una grande squadra non siamo una grande squadra non parlo di livello tecnico o livello fisico non siamo una grande squadra perché è normale squadre che sono abituate da 30 anni a fare la Champions League a vincere la Champions League non può essere uguale a una squadra che ha fatto un anno a Coppa UEFA e ha fatto i preliminari dei Champions negli ultimi 5 anni è vero pure che questa è una società che ha un'altra mentalità questa è una società che a differenza di Milan, Inter e Juve tira fuori 50 giocatori con 3 anni intanto siamo partiti due anni fa che eravamo una squadra di semi sconosciuti e abbiamo scritto un pezzo di storia dell'Udinese perché in Coppa UEFA siamo arrivati dove gli altri non sono mai arrivati per cui penso che questo già sia importante come dice Zaccheroni la storia si costruisce noi proviamo a costruirla ci stiamo provando